E bello a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovissimo video di Resident Evil 3 Oggi ci troviamo qui per continuare la saga in cui proviamo tutti i giochi, tutte le specialità horror Minchia però come sei brutto però eh Un po' di skin care Però lasciamo stare Entriamo in gioco direttamente Andiamo subito Confermiamo tutto L'epidemia si è diffusa a una velocità impressionante Le strade sono invase da cadaveri Jill sta cercando disperatamente di fuggire dalla città Proprio quando tutto sembra ormai perduto Ecco un uomo di nome Carlo arriva a salvarla Ora non ci resta altro che entrare in game e quindi Vedere un po' com'è la situa qui Ah entra facilmente Saltiamo i filmati Ok aspettiamo le cose Prendo i 9 mm qua Interessante Carichiamo la pistola Lì Il vecchio mi ha mandato a sistemare i binari Vuoi riattivare l'infrastruttura della metro E come dovrei fare? Devi prima ripristinare la corrente Ti guiderò fino alla sottostazione quando sarai in strada Ricevuto Vado subito Ripristino la corrente della sottostazione Cos'è sta adesso? Ok Inchi nionci No eh si voglio Però non mi dovete farmi Mandate a cadere Secondo me lui Ha bisogno di essere aggiustato con un colpo di pistola Nooo Mi hanno sdungato il bambone Torna dentro Esci fuori Madonna manco lei sa che devi fare Non si può Non si può Fuggire per l'unica via libera no 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 che mio no 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 ma non voglio morire bastardo ma già la miseria ma siete tutti bucherellati beh va non ciò picchi tutta brother carlos sono nella strada principale che faccio vedi dei grossi tralicci è la sottostazione per arrivarci devi passare dal vicolo alla tua netta intendi forse il vicolo in fiamma forse un tipo come te è abituato alle situazioni scontanti no fottiti devo spiegare no e che gli uso qua per aprire salve si si fate con calma voi non proprio non vi dovete scomodare non caso oh fui mi hanno sdungato il bombon ricontinuiamo a facciamo con calma e pc per i pepe 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 cosa ho fatto Ma io non ho più munizioni Perfetto No ma che cosa No a me è il Kurtel No ma sempre lui Sempre Zibabou mi prende Sempre Zibabou Zibabou Proviamo Settima volta Vediamo Carica 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 Ragazzi sono dovuto passare alla modalità assistita perché sennò qua non ci va avanti E qua ti picchiano eh Forse devo andare qui Eh si Poi dove mi hanno sdungato prima Eh si però tu io ormai te faccio Io ormai te faccio Eh si ma perché 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 ma non c'è Che vita ho Sì allora Io devo andare qui La cassa C'è La cassa Questa No Ah Voi C'è come credo a spazio ma vai perchè mi fate questo perchè allora se io parlo vuol dire che mi sto proprio facendo sotto perchè meno male che ci siete voi hashtag tutti insieme giù nei commenti per affrontare questa situazione di zubatou per l'amore di dio andiamoci da qui per darsi che è la via giusta e si ma perchè bruder eeeh cosa ho detto buona giornata no 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 che sta affasotto giuro che non ce la faccio a tenere tutte queste accassioni allora cosa dovrei fare andiamo qui ah pianta verde allora io ho la pianta o la polvere da sparo mi manca una tronchese per aprire l'idrante oh altra polvere da sparo mi stunga il bombon si si so a che serve la mappa ecco 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 mamma mia ho trovato i colpi per la 9 mm come stavo andando salve a tutti sulle mani Milano dove sono dove sono mi è svenuto addosso mi sei svegliato oh brother va di qualcosa Pianta rosta Satisfaction qui Satisfaction Sai che gli ho fatto cadere il cervello? Ma che tu dico a fa' Allora, qua la luce lampeggia Quindi vuol dire, entra qui No Ah! Madonna santa! Adesso sei andato Tu dormi? Per favore Mamma mia La manichetta Qui sei al sicuro Un'altra cosa Una granata Così E la polvere da sparo Un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa Non si vede niente Ma cioè allora Se vedete voi qualcosa è perché vi ho bustato La luminosità ma Non si vede proprio Una ceppa di niente In che modo dovrei ritornare indietro E ovviamente con la mente che ho Forse da qua Per favore Aspetta che qua mo tiriamo una granata Ok Ok Guardiamo la nostra Ah Ma tu ti addovina La pezza è me Oh ma si scemo Che mi fai pigliare sti colpi Ah l'anima ricchita è bello Ma che ti pozzino schiantano a capo Scusatemi ragazzi ma Poi ci ho fatto sotto Ti esce Zubabou dietro E non rida Dove devo andare Ah ecco Posso da qui Ahia 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 Zubabou Zubabou due Zubabou Zubabou Carica tu Non ti preoccupare Che ti trovi bene Polvere E non ti preoccupare Non ti preoccupare Tu ti avrai Stai Le tronchi Le tronchi Le tronchi Si le tronchi Le tronchi Le tronchi Sì. 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 ecco qua e ora prenderemo il nostro caro fucile è bellissimo un m3 no 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 non hai capito bene tu questo qua lo equipazzi al posto della granata scelta rapida ecco qua vediamo se fai così no no così guarda i miei colpi contatti mi sa che ora ci permetteranno di andarci oi me ne vorrei tornare io non va a dove dobbiamo andare? da dove si potrebbe? ah è vero è lì è ancora vivo lui zubabow cosa c'era della polvere da sparo di alta qualità e non teniamo più niente da fare non ci fanno andare avanti ma dobbiamo andare da qui ah ecco c'è una via qui ci stanno dei proiettili da 9 mm da dove si va da dove si va non capisco non sto capendo carica il fucile ci sarà una via che ci siamo saltati questa dov'è dove potrebbe mai da dove possiamo andare planta verde la metti al posto di è questa direi allora ragioniamo ragioniamo perché non vogliamo essere stupidini io vengo dalla street quindi me ne devo tornare dalla street può darsi che devo buttare una bomba a frammentazione qui dentro no non lo so qui se si può mettere ecco è questo che posso dire oh no sto capendo mi fa di capire o che facciamo allora vi faccio ragionare a voi che vi ricorda è la parte guardate e abbiamo il nostro mostro che non si fa la skin care guarda a brother a skin care brother devi fare una cagarella a mare io ci sto a morire no piante non ne tengo io ovviamente con che la combino combino a me tutto dai però non fare questo no che ce fai tu qua oh 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 aridaie aridaie roma aridaie roma no no brother brother sei brutto fuggi non te ne frega non è manno ci si può me sei dai che mi ha detto che mi ha fatto va vai 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 dove sta l'idrante l'idrante usa giu 민 giu 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 mia quando è brutto grazie per aver giocato modalità ok morti quattro bambole distrutte zero dovevamo distruggerle quelle bambole vabbè ragazzi è finita qui quindi da karate 10 è tutto è durato pochissimo quindi out